A vederla da fuori sembra una casa come tutte le altre, ma in realtà è costruita con legno e paglia. È la seconda del genere in Italia e sorge su una collina valfornace nel cuore del cratere. Si chiama Roccapaglia e a progettarla è stata Tuya, una manager finlandese convertita all'ambientalismo che dopo essere stata conquistata dai paesaggi dei Sibillini, ha pensato bene di realizzare quel suo sogno. Una casa in paglia e legno, costruita lì dove un tempo c'era un fienile e una stalla usando materiali di scarto trovati sul posto. Ho trovato arcilla di sotto casa e mescolato con pezzettini di paia e sappia e fatto questo in tonaco. Sui muri realizzati con pannelli di paglia, poi niente vernici o materiali tossici, piuttosto un'imbiancata di calce e poi travi il legno, giusto per rispettare la normativa italiana. Questi travi sono strutturali perché in Italia non si può costruire case di paglia portante, in altri paesi in Europa si può usare anche solo paglia. Antisismica ed ecosostenibile ma non solo, Roccapaglia è anche confortevole e conveniente. Abitare in una casa di paglia infatti permette di risparmiare sulle bollette. La temperatura è più costante, l'inverno è più caldo, l'estate è più fresca e mai c'è umidità, mai c'è muffa in questa casa. Tanti poi vantaggi di realizzare una casa in legno e paglia, ne è convinta Tuya che proprio qui dove la terra trema è realizzato il suo sogno antisismico ed ecosostenibile. Questo perché ho costruito questa casa di paglia come un esempio, come si può fare cose un po' meglio per noi e per l'ambiente.